Parla tifo azzurra, scrive al TG Napoli e attiva la campagna per non perderla in prima persona e l'ultima notizia dal Napoli. Martin Petras, membro dell'entourage di Marek Amshik, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli e ha parlato di un futuro in blu come allenatore dell'ex capitano. Amshik, l'agente del tuo futuro. Le parole di Petras, si parla spesso del ritorno di Amshik al Napoli da allenatore. Il Trabzonspor gli ha offerto un rinnovo triennale, in Turchia vorrebbe tenerlo. Sta pensando con fiducia al futuro e ovviamente un ritorno in azzurro non dispiacerebbe. L'allenatore della Slovacchia calzona vorrebbe assegnargli un ruolo in nazionale. Ne sapremo di più nelle prossime settimane. Ehi fan di azzurra, siete d'accordo con Amshik? Lascia la tua opinione nei commenti perché è molto importante per il Napoli.